I giochi della XXXII Olimpiade, noti anche come Parigi 2024, si sono svolti a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all'11 agosto 2024, a cento anni esatti dall'ultima volta in cui la città ha ospitato l'evento, sebbene la morte sia avvenuta nella mattinata di venerdì. Poche ore, dopo la cerimonia d'apertura, la notizia è stata resa nota solamente nel pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio, dall'International Boxing Association, IBA, che ha espresso le proprie condoglianze, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Lionel Ilika Fatupaito, l'allenatore nazionale di box di Samoa, tragicamente scomparso durante Parigi 2024. La dedizione e la passione di Lionel, per lo sport, hanno lasciato un segno indelebile nella comunità della box. La sua eredità continuerà a ispirare le generazioni future. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con il team Samoa e tutti coloro che sono stati colpiti da questa profonda perdita. L'allenatore di box della squadra delle isole Samoa che partecipa alle Olimpiadi di Parigi 2024, è morto improvvisamente all'età di 60 anni a causa di un infarto che lo ha colpito mentre si trovava nel villaggio olimpico, di Saint-Denis. Poco fuori dai confini del comune di Parigi, Lionel Ilika Fatupaito si trovava nella propria stanza assieme a un atleta, quando, intorno alle 10 e 20, si è sentito male ed è deceduto per un infarto attribuito a cause naturali. L'uomo 60enne è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Secondo quanto riferisce l'Ansa, sulla scena erano già presenti i medici di emergenza, allertati degli atleti.